Amici carissimi, siamo qui a visitare un museo unico in Europa. Qui abbiamo, relativo esclusivamente al Veneto, una serie di primati e primatisti veramente fuori dell'ordinario. Pensate che il canale di Suez è stato progettato da due ingegneri veneti, che il primo motore funzionante a benzina al mondo è stato costruito da un veronese, che la prima automobile italiana nel 1894 è stata costruita a Padova, che la prima donna pilota in assoluto al mondo è la Contessa Albrizi veneziana, ma proseguiamo ancora col primo dirigibile italiano del 1905, con il primo aeroporto d'Italia che è stato costruito a sud di Padova nel 1909, l'Aeroclub d'Italia che viene fondato a Padova l'anno dopo, e così via, una infinità di record che poche altre regioni possono vantare. In chiusura possiamo mettere Federico Faggin che nel 1975 inventa il microchip che fa funzionare il mondo, oppure Massimo Marchiori che concepisce quell'algoritmo che permette la nascita di Google, che è il motore di ricerca oggi più usato al mondo. Grazie a tutti!